Buongiorno, siamo qui in questo evento molto interessante, a mio parere, per gli argomenti e lo spessore dei relatori. Tra i vari topic discussi in questa mattina, quello sulla complessità, quindi riferimento alla recessa, è penso quello più attuale, in quanto anche l'area regionale abbiamo stituto un tavolo di lavoro per l'implementazione del ricepimento di questo sistema di valutazione della complessità, da riportare anche nella nostra regione per discriminare l'intensità riabilitativa e quindi ricoveri in alta intensità o in riabilitazione estensiva. Quindi l'auspicio è di poter anche noi, sulla stricola di altre regioni, tipo l'Imilia Romagna, poter attuare questi percorsi utilizzando le recense.